In questo numero del Salus Tg, al via gli stati generali dei medici, si parte nel 2019, il ministro Grillo, sulle professioni sanitarie nessuna sanatoria nella manovra, dopo una separazione corsa al ritocco per l'anno nuovo. Un confronto e una riflessione sul futuro dei medici italiani, che coinvolgerà la professione medica sui temi che in questi anni hanno messo in crisi il ruolo dei camici bianchi. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri ha lanciato la nuova Magna Carta del Medico, che sarà definita dagli stati generali al via dall'inizio del 2019 per concludersi nel giugno 2020. I medici vogliono farsi carico di questo e vogliono riformulare il ruolo all'interno della società per consolidare la loro attività in termini di assistenza, ma anche allo stesso tempo ribadire che loro sono dei professionisti e poiché sono professionisti sono autonomi, indipendenti e responsabili. Dopo le polemiche sulla deroga in manovra, quanti non hanno i titoli abilitanti per l'iscrizione agli albi delle professioni sanitarie, interviene il ministro della Salute Giulia Grillo. Stoppa la disinformazione sull'emendamento che salva il posto di lavoro a 20.000 operatori già presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Il Parlamento non ha approvato nessuna sanatoria per abusivi. Si dà la possibilità di continuare a esercitare a lavoratori con titoli validi fino all'approvazione della legge 3 2018, inserendoli in elenchi speciali. Non sarà un via libera per tutti, ma solo per chi dimostrerà di avere i titoli e di aver lavorato per almeno 36 mesi in 10 anni. Delusioni, separazione o tradimenti? Il lettino del chirurgo diventa un antidoto. Dopo il fallimento di un rapporto, infatti, c'è chi cerca di ritrovare autostima e sicurezza ricorrendo a chirurgia o trattamenti di medicina estetica. Un approccio tipico soprattutto se marito, fidanzato o amante hanno trovato un'altra donna, spiega Giulio Basoccu, chirurgo plastico responsabile della divisione di chirurgia plastica estetica e ricostruttiva presso gruppo INI.